Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Eleonora Daniele. Dopo la mostra del cinema di Venezia inizio settembre scorso, si concede un'altra rara apparizione mondana in coppia. La conduttrice sfila insieme al marito Giulio Tassoni sul red carpet della serata di chiusura della festa del cinema di Roma. La conduttrice e l'imprenditore fanno passerella mano nella mano. Elegantissimi. Entrambi in. Black. La 46enne con l'abito attillato lungo e molto chic. Sorridenti. Affiatati. Eleonora e Giulio sorridono ai fotografi e si mettono in posa. I due. Insieme dal 2002. Quando si conobbero a una cena tra amici. Non hanno problemi a mostrare in pubblico l'amore che li lega. Genitori di Carlotta. Nata il 25 maggio del 202. La Daniele Tassoni sono diventati marito e moglie dopo 16 anni di fidanzamento. Si sono sposati il 14 settembre 2019. La presentatrice di storie italiane. Programma di punta di Rai 1. Vive il suo privato con molta riservatezza. Cedendo sempre pochissimo agli impegni ufficiali accompagnata dal marito. La Kermess cinematografica della capitale. Però. È un appuntamento a cui decide di non mancare. E. Con Giulio che Eleonora Daniele desidererebbe un altro figlio. Come ha più volte rivelato. A di più a febbraio scorso aveva detto. Vorremmo un altro figlio. Ma sarà il cielo a decidere per noi. Se verrà bene. Altrimenti pazienza. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.